Buonasera, il tema della conversazione di questa sera riguarda il potere della mente. L'essere umano è fortemente condizionato dalla propria mente, ma il tema che dovremmo sottolineare noi è che la mente è qualcosa di pervasivo, sia per quanto riguarda l'essere umano sia per quanto riguarda l'intera realtà. Questa sera cercheremo di capire quali siano i poteri della mente, quali siano le sue potenzialità e naturalmente cercheremo anche di capire che cosa possiamo fare noi nel qui ed ora, nella nostra vita di ogni giorno, per cercare di utilizzare al meglio quelle che sono le nostre potenzialità, soprattutto in relazione alle situazioni che ci troviamo a vivere e a questa fase della storia dell'umanità che, secondo l'antica tradizione vedica, possiamo ricondurre, diciamo, ad un momento di Kali Yuga. Allora vale la pena, prima di tutto, fare una brevissima riflessione sul significato di questa situazione, che dovrebbe appunto riguardarci poi tutti. Il Kali Yuga, dal punto di vista della tradizione della tradizione induista, è una delle fasi di evoluzione dell'umanità che viene dopo altre fasi caratterizzate in modo diverso e definite come l'età dell'oro, traducendo ovviamente nel nostro linguaggio corrente l'età dell'argento e l'età del bronzo e attualmente Kali Yuga, appunto, l'età del ferro. Tutto questo fa riferimento, diciamo, ad un'espansione della dimensione della materia rispetto invece alla realtà dello spirito. Quindi passiamo da un momento di una piena consapevolezza e di una vita dedicata interamente allo yoga e alla meditazione, ad una fase successiva, questa è naturalmente l'età dell'oro. L'età dell'argento invece è caratterizzata da un momento in cui c'è un po' di perdita, possiamo dire, di consapevolezza, che poi nell'età del bronzo diventa ancora più forte e questo significa, tra l'altro, sia a livello individuale, sia a livello sociale, un'affermazione del principio del dualismo. Per cui nell'età del Kali Yuga, che è quella che stiamo vivendo, l'essere umano è interiormente diviso tra dei sentimenti, dei pensieri e delle considerazioni di alto livello spirituale, ad altri invece in cui c'è una mera identificazione con il proprio io. C'è un'immagine molto bella nella tradizione induista che è quella di un bufalo, il quale bufalo nell'età dell'oro praticamente le quattro zampe presidiano direttamente e con molto equilibrio il terreno e poi via via nelle fasi successive le gambe da quattro diventano tre, da tre diventano due e nel Kali Yuga praticamente questo bufalo è costretto a sorreggersi su un'unica gamba con tutte le conseguenze naturalmente di precarietà e di difficile equilibrio. dovremmo però anche chiederci se in un periodo di questo tipo accettiamo quindi l'impostazione induista e consideriamo questo come un periodo di età del ferro, quindi di età del Kali Yuga, dovremmo chiederci se però tutti i livelli di consapevolezza precedente siano perduti oppure no. naturalmente secondo la tradizione induista non è così perché il portato della conoscenza e il portato della presa di coscienza delle epoche precedenti sussistono come potenzialità a livello di presa di coscienza anche attuale dell'essere umano che se da un lato è spinto sempre di più verso la materia dall'altro può trovare attraverso un atto naturalmente di volontà attraverso la costanza la fiducia attraverso la meditazione attraverso il sentimento il pensiero spirituale può naturalmente trovare una corrente ascensionale che lo porti ad una diversa presa di coscienza pur insistendo in un momento in cui la tendenza di questa immersione dell'essere umano nella materia fa sì che sia sempre forte il tema dell'identificazione con il proprio io. Questo è un punto molto importante, uno snodo molto importante anche nel momento in cui ci accingiamo a fare qualche riflessione sui poteri della mente e su questa dimensione dell'essere umano. Nella letteratura teosofica c'è un frammento di una lettera dei Mahatma a Sinnet molto bello in cui uno di questi Mahatma fa questa affermazione che io vorrei condividere con voi proprio come elemento di prima riflessione. L'affermazione è questa, voi guardate sempre le cose dello spirito con gli occhi del corpo, ciò che dovete fare è guardare le cose del corpo con gli occhi dello spirito. È un'affermazione molto interessante che io appunto voglio condividere con voi e sulla quale credo che qualche riflessione vada sicuramente fatta. Qual è il vero problema dell'essere umano che è in difficoltà, è perennemente in difficoltà nell'esprimere tutte quelle che sono le sue potenzialità. Allora dovremmo chiaramente riflettere insieme su questo tema. Il primo aspetto riguarda il fatto che l'essere umano ha la tendenza a identificarsi e identificare il proprio modo di vedere le cose con le percezioni dei sensi e quindi naturalmente le percezioni dei sensi permettono di cogliere la realtà soltanto fino ad un certo punto, soltanto fino ad un certo livello. Quindi le percezioni dei sensi sono limitate e le percezioni di sensi se noi attribuiamo a queste percezioni la totalità della nostra visione del mondo e delle cose ci viene inibita quello che è una facoltà molto importante che è la facoltà di discriminazione, cioè la facoltà attraverso cui l'essere umano ha la possibilità di capire che la realtà percepita dei sensi è una realtà limitata e che dietro a questa percezione sensoriale c'è la possibilità di comprendere la realtà in un modo molto più articolato e molto più profondo. Quindi nel momento in cui noi percepiamo la realtà soltanto attraverso i nostri sensi noi di fatto ci identifichiamo da un lato con la materia e dall'altro con il nostro piccolo io. Qual è una delle caratteristiche che ha questa visione superficiale della vita? Naturalmente questa visione superficiale della vita in qualche modo segna il trionfo di una visione manichea, di una visione duale e quindi ci abituiamo a vedere la realtà sempre senza un'autentica capacità di conciliare l'aspetto spirituale con l'aspetto materiale. Nella migliore delle ipotesi tendiamo a separare quelle che sono le cose spirituali da quelle che invece sono le cose materiali. Naturalmente questa dicotomia è una dicotomia che privilegia la percezione digitale per così dire dell'utilizzo della nostra mente. Quindi la transazione è una transazione da 0 a 1 e attraverso questa visione separativa noi ovviamente perpetriamo quello che probabilmente è il più grande di tutti gli inganni e cioè di percepire la realtà fuori di noi come qualcosa di separato da noi. Ci viene quindi istintivo difendere diciamo quello che pensiamo essere la realtà più importante per noi che è la realtà del nostro piccolo io e naturalmente nel momento in cui ci mettiamo a difenderla ci precludiamo in realtà una visione complessiva, una visione globale della vita stessa. e questo ci porta anche naturalmente a rifiutare in qualche modo il cambiamento quindi ci impedisce una visione più ampia che potrebbe portarci ad un atteggiamento mentale fondamentalmente basato per esempio non soltanto sul cogliere ciò che di negativo noi vediamo fuori perché poi il passaggio successivo è che naturalmente ci affranchiamo da qualsiasi presa di coscienza etica perché la colpa di quello che accade è sempre di qualcos'altro è sempre di qualcun altro e quindi facendo questo ci togliamo togliamo di mezzo quella che potrebbe essere una presa di coscienza di responsabilità nei confronti della vita stessa che cosa diventa importante a questo punto perché l'essere umano possa veramente vivere a fondo la la propria la propria potenzialità credo che il primo aspetto su cui fare una piccola riflessione sia quella di attribuire una grande importanza alla qualità del pensiero e anche della parola leggo un antico adagio che afferma che la morte e la vita sono il potere della lingua quindi il tema è che noi attraverso la nostra descrizione del mondo attraverso l'uso del linguaggio oltre che del pensiero abbiamo una grande responsabilità e proprio questa qualità del nostro pensiero questa qualità del nostro linguaggio può influenzare in modo molto forte la nostra visione del mondo è altrettanto chiaro che l'essere umano è un essere che in continua relazione con l'esterno e quindi diciamo c'è un nutrimento che accompagna la nostra vita la nostra vita quotidiana un nutrimento che ovviamente non è fatto soltanto diciamo di di un'alimentazione come quella che utilizziamo grusolana se vogliamo necessaria peraltro per la nostra vita ma naturalmente ci nutriamo anche di pensieri e ci nutriamo di di emozioni è chiaro che nutrirsi sia fisicamente sia emozionalmente sia mentalmente in modo positivo poco per volta genera una una serie di meccanismi perché l'essere umano è un sistema voglio dire molto intelligente che si adatta continuamente agli stimoli diciamo che che riceve e quindi se questi stimoli a tutti i livelli sono degli stimoli positivi ne esce un qualche cosa che al contrario se questi stimoli che riceviamo dall'esterno sono e che noi peraltro in parte subiamo ma in parte anche naturalmente cerchiamo è evidente che questi stimoli se sono positivi generano un circuito positivo attraverso il quale l'essere umano ha la possibilità di assumere un livello di consapevolezza maggiore che non nel caso che di essere soltanto un soggetto passivo diciamo agli stimoli che arrivano che arrivano da fuori estrema importanza assume a riguardo anche naturalmente la scelta delle nostre relazioni se noi scegliamo delle relazioni positive virtuose costruttive ne avremo una serie di conseguenze carmiche se invece noi scegliamo delle relazioni umane negative ne avremo ovviamente delle conseguenze carmiche diverse è chiaro che qui noi non siamo gli arbitri assoluti delle nostre relazioni perché alcune relazioni la vita ce le dà e quindi penso alle relazioni familiari per esempio e penso anche ad altre relazioni quindi c'è sempre una componente karmica qual è la differenza qual è il discrimine naturalmente il discrimine è dato dal nostro atteggiamento cioè noi abbiamo delle cose nella vita che possiamo cambiare abbiamo delle altre cose nella vita che possiamo sicuramente scegliere abbiamo però delle cose che la vita ci dà e che in qualche modo tra virgolette noi noi subiamo allora quando c'è questo aspetto che tutti ci riguarda dovremmo naturalmente riflettere potentemente e profondamente e arrivare a questa conclusione cioè che cosa ne facciamo della nostra vita delle nostre esperienze ci sono delle esperienze anche negative che noi naturalmente non possiamo non vivere non possiamo non essere immersi in questa esperienza la nostra libertà naturalmente è quella di vivere questa esperienza in un certo modo piuttosto che in un altro modo quindi diventa a questo proposito estremamente importante essere capaci naturalmente di cognizione ma essere soprattutto capaci di osservazione e di riflessione questa osservazione non discriminante questa osservazione non basata quindi sulla proiezione delle nostre forme pensiero che poi ci permettano di vedere la realtà in questo o in quest'altro modo ebbene una visione di tal fatta che si basi su un'osservazione neutrale ci può permettere effettivamente come dire una presa di coscienza estremamente importante soprattutto il fatto di non reagire meccanicamente a quelle che sono gli stimoli che ci che ci derivano dalla da ciò che viene da fuori da fuori di noi verso verso noi ci sono sicuramente degli elementi molto importanti a beneficio di questa solidità di atteggiamento che è un atteggiamento naturalmente che si basa sui comportamenti ma che si basa su un approccio mentale di un certo tipo e su un approccio emotivo e faccio riferimento a due a due elementi un elemento è la meditazione un altro elemento è la preghiera il primo elemento l'elemento della meditazione è strettamente correlato al tema dell'osservazione perché la meditazione come amo sempre sottolineare e ripetere non va confusa non va identificata con una tecnica con la tecnica che utilizziamo per avvicinarci alla meditazione la meditazione è uno stato della mente la meditazione uno stato della coscienza quando la differenziazione tra l'osservatore e il soggetto osservato quindi fra il soggetto e l'oggetto questa divaricazione quando viene meno si instaura il processo di meditazione il processo di meditazione può instaurarsi soltanto se l'osservazione è un'osservazione neutrale perché fin tanto che noi continueremo a reagire agli stimoli che l'osservazione ci da noi non riusciremo a superare questo dualismo quindi diventa importantissimo invece essere in grado come dire di utilizzare le tecniche di meditazione nella prima parte perché ovviamente le tecniche ci possono dare un elemento che ci avvicina al rilassamento ci da un elemento naturalmente che ci può portare ad un livello introspettivo ad un livello di concentrazione questo livello è sicuramente un livello importantissimo ma è chiaro che la meditazione è un'altra cosa e quando si innesca questo superamento fra l'osservatore e l'osservato fra il soggetto che osserva e l'oggetto che è osservato anche a proposito della preghiera elemento molto importante non soltanto perché naturalmente anche nelle tradizioni iniziatiche pensate significato nella religione cristiana per esempio dell'isicasmo e quindi della ripetizione voglio dire di nome di dio della ripetizione così che sono tutte cose che poi si ricollegano anche alla tradizione orientale pensiamo alla forza la potenza diciamo di questi mantra ma così come abbiamo fatto con l'osservazione che abbiamo appena sottolineato rispetto alla meditazione se parliamo anche della dimensione della preghiera dovremmo tener conto di un fatto che noi molte volte in modo piuttosto equivoco consideriamo la preghiera come un chiedere e quindi c'è sempre una posizione in qualche modo che è dettata più dalla preoccupazione più dalla paura che da altro in un continuo chiedere ad una dimensione spirituale ad una dimensione variamente rappresentata della divinità di chiedere sempre un qualche cosa in realtà dal punto di vista esoterico sappiamo perfettamente che la preghiera è qualche cosa di diverso è un mettere a disposizione diciamo della dimensione spirituale le nostre energie e la nostra forza e naturalmente attraverso la preghiera noi possiamo entrare in quella dimensione del servizio che è un aspetto essenziale perché affinché l'essere umano abbia la possibilità di fare una presa di coscienza che lo distingua e che gli permetta anche chiaramente di far sì che la dimensione della sua mente la dimensione delle sue emozioni naturalmente entrino in un livello in una dimensione che gli consenta una presa di coscienza di tipo di tipo diverso qui alla fine resta sempre una questione di fondo e la questione di fondo è vogliamo nella nostra vita essere degli esseri pensanti oppure invece finiamo e vogliamo essere degli esseri pensati questo è il grande tema questo è un grande tema anche del momento presente in cui sostanzialmente noi vediamo di grandi assorbitori di emozioni da parte degli esseri umani diventano di grandi assorbitori di emozioni di grandi assorbitori di idee altrui ma naturalmente quello che manca è una presa di coscienza una presa di coscienza e di responsabilità individuale perché gli esseri che vogliono essere degli esseri pensanti hanno bisogno di atti di volontà e hanno bisogno anche di sacrificio intendendo il sacrificio come un sacrum facere cioè un rendere sacro quello 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 che si fa se invece noi continuiamo ad essere preda della negatività della dimensione negativa della dimensione duale della mente chiaramente la nostra realtà e anche il potere i poteri della nostra mente restano assolutamente ordinari e affievoliti e preda chiaramente di alcuni aspetti che è giusto seppur brevemente sottolineare innanzitutto la prima cosa che va sottolineata è la dimensione in oriente si usa il termine avidia mi riferisco quindi all'ignoranza cioè gli esseri umani vivono in una dimensione una dimensione molto limitata della coscienza e della consapevolezza e quindi vivono immerse in una dimensione di ignoranza ma molto spesso gli esseri umani ignorano di ignorare ed è proprio da questo che nascono le mille discussioni sia in campo politico piuttosto che in campo sociale piuttosto che in campo economico ma anche in campo spirituale che molte volte sono delle discussioni diciamo più da bar sport sostanzialmente che davvero davvero approfondimento di tipo di tipo spirituale e anche consentitemi anche di tipo culturale perché qui tutti se ne intendono di un sacco di cose senza avere nemmeno i fondamentali di queste cose quindi l'essere umano deve fare questa presa di coscienza sulla dimensione della propria ignoranza perché se non fa questa questa presa di coscienza sulla dimensione della propria ignoranza non va da nessuna parte pensa di sapere ma in realtà non sa e quindi ignora sostanzialmente di ignorare è chiaro che c'è un altro elemento che si insinua nella nostra percezione della realtà e che è di profondo ostacolo al nostro vedere al nostro vivere mi riferisco alla paura l'essere umano è perennemente in uno stato di insicurezza e questo stato di insicurezza fa sì che si senta minacciato e naturalmente il fatto di sentirsi minacciato genera tutta una serie di paure le paure e le paure sono naturalmente le possiamo anche classificare in antropologia si è molto anche in psicologia si è molto lavorato sono decine e decine i tipi di paura che l'essere umano ha ma noi dobbiamo considerare un elemento fondamentale della paura la paura a volte ci deriva da delle esperienze negative altre volte la paura ci deriva da rappresentazioni diciamo negative ma la paura non è mai legata al momento al qui ed ora è sempre legato un'esperienza del passato o una proiezione della nostra paura naturalmente per quanto riguarda il futuro se qualcuno di voi ha avuto degli accadimenti diciamo tipo degli incidenti nella loro vita eccetera converrà con me su un fatto molto semplice che mentre le cose accadono nel durante voglio dire non c'è paura la paura subentra sempre dopo subentra dopo perché c'è il dolore oppure subentra dopo perché c'è una rappresentazione di quello che è successo quindi dobbiamo capire quanto pericolosa per una visione del mondo per una visione della vita sia la dimensione della paura e però contemporaneamente noi dobbiamo avere l'onestà intellettuale e questa capacità di introspezione di capire quanto le paure condizionino la nostra vita allora l'ignoranza condiziona la nostra vita e limita i poteri della nostra mente le paure condizionano le nostre vite e naturalmente non solo condizionano la nostra vita ma anche limitano i poteri della nostra mente a volte queste paure sono inconsce a volte sono legate ad esperienze che nemmeno ricordiamo ma certo questa dimensione della paura è una dimensione estremamente limitante del nostro vivere è evidente che sia la dimensione dell'ignoranza sia la dimensione della paura hanno a che fare con la dimensione dell'identificazione con il nostro piccolo io che è il piccolo io della personalità quindi noi siamo un fascio di ricordi siamo un fascio di informazioni però abbiamo dentro di noi degli spazi immensi delle potenzialità immense ma queste potenzialità potenzialità della nostra mente ma non solo della nostra mente queste potenzialità del nostro cuore queste potenzialità non possono esprimersi non possono uscire fin tanto che noi siamo identificati diciamo con i nostri veicoli più grossolani fin tanto che noi siamo identificati con il nostro con il piccolo io della nostra personalità Krishnamurti leggo adesso una sua affermazione a questo proposito che voglio condividere con tutti noi affermava solo quando si riesce ad andare oltre il groviglio di idee che costituisce l'io che è dotato di totale o parziale continuità solo quando si riesce a superarlo allora quando il pensiero è completamente muto solo allora si realizza uno stato dell'esperire e si saprà allora che cos'è la verità quindi secondo questa affermazione Krishnamurtiana fin tanto che noi siamo identificati con il nostro piccolo io facciamo molta 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 fatica ovviamente ad andare oltre alla nostra personalità e certamente ci sarà preclusa una visione del mondo performante diciamo e anche molto molto più completa nostra mente a volte noi la identifichiamo diciamo così con il cervello che certamente il cervello è uno strumento è uno strumento molto importante e io invito sempre tutti i ricercatori spirituali ad approfondire le tematiche del funzionamento del cervello perché naturalmente attraverso la conoscenza anche di questa dimensione che caratterizza l'essere umano noi abbiamo la possibilità di capire molte cose quando la scienza ci insegna che naturalmente l'essere umano a seconda delle onde cerebrali che sono di diverso tipo e che sinteticamente possono essere raggruppate diciamo in quattro categorie definite rispettivamente beta, alfa, teta e delta e abbiamo un funzionamento ordinario che può essere a 30 Hz e naturalmente questo funzionamento può rallentarsi fino anche a livello delta ad essere tra 1 e 3 Hz. È evidente che a seconda quindi del funzionamento del cervello e delle onde cerebrali che lo caratterizzano noi abbiamo una percezione della realtà che è diversa e questo dovrebbe farci potentemente riflettere perché se il nostro stato ordinario di coscienza di identificazione con il nostro io, di percezione attraverso la paura, attraverso il pensiero duale è tutto incentrato su un funzionamento a livello beta noi abbiamo la possibilità di capire che attraverso la concentrazione, attraverso il rilassamento attraverso il pensiero creativo, attraverso anche, perché no, la meditazione abbiamo la possibilità di un andamento delle nostre onde cerebrali completamente diverso e a comportamento e quindi a ritmo diverso di queste onde cerebrali anche la nostra percezione della realtà cambierebbe vengano fatto, credo, i teosofi nella loro storia dalla fine dell'Ottocento questo lavoro, diciamo, non è mai stato abbandonato dalla società teosofica e naturalmente è stato particolarmente intenso soprattutto nei primi decenni di vita della società teosofica quindi negli ultimi 25 anni dell'Ottocento e anche nei primi, direi, altrettanti anni e più del Novecento si è molto studiata la realtà dell'essere umano e lo si è fatto attraverso un approccio comparato un approccio comparato naturalmente sia di conoscenza del pensiero filosofico sia di conoscenza del pensiero religioso ma anche tenendo conto di quelle che erano naturalmente quello che era il portato della scienza e quindi l'osservazione il complesso di osservazione di queste cose ha permesso di osservare che chiaramente c'è una dimensione fisica che l'essere umano è caratterizzato da una dimensione fisica ma che l'essere umano ha anche una dimensione eterica e quindi questa dimensione eterica lo collega con una realtà che non è direttamente percepibile dai sensi anche se attraverso specie poi in epoca contemporanea l'utilizzo di determinate tecnologie ci mostra chiaramente come ci sia un aspetto vibrazionale che è correlato alla dimensione fisica e alla dimensione emotiva e alla dimensione mentale dell'essere umano e questo è un fatto direttamente rilevabile dalla scienza se io applico un eletto encefalografo voglio dire alle persone che meditano questo è l'encefalogramma che ne deriverà sarà un encefalogramma che vedrà un comportamento delle onde cerebrali diverse rispetto invece a uno stato di movimento rispetto ad uno stato di coscienza diciamo normale e ovviamente tutto questo oggi noi lo utilizziamo in tantissime questo aspetto vibrazionale questo aspetto magnetico non ci impressiona minimamente perché quando abbiamo dei problemi fisici facciamo volentieri un'attacca e quindi capiamo benissimo che come dire l'intera rappresentazione anche della nostra dimensione fisica può passare attraverso una rilevazione naturalmente dei campi magnetici dei campi vibrazionali e parlavamo della dimensione eterica e chiaramente però l'essere umano ha anche questa dimensione astrale questa dimensione emotiva e dal punto di vista teosofico diciamo l'aspetto emotivo l'aspetto astrale è un vero e proprio corpo quindi l'essere umano non ha solo un corpo fisico ma anche un corpo eterico ma anche un corpo astrale e naturalmente il corpo astrale si nutre di quelle emozioni di cui abbiamo parlato quindi ovviamente al chiaro reggente diciamo l'essere umano quando il chiaro reggente vede un essere umano ha la possibilità di cogliere anche questa dimensione emotiva questa dimensione astrale e questa dimensione può avere aspetti positivi e può avere aspetti negativi c'è un libro molto bello un libro di Annie Besant e Charles Webster-Liedbiter che si chiama Le Forme Pensiero corredato anche da tutta una serie diciamo di tavole il cui valore diciamo è soprattutto questo cioè quello di poterci far capire in via visiva e anche in via intuitiva come a seconda di quelle che sono i nostri pensieri di quelli che sono i nostri sentimenti chiaramente le nostre forme pensiero appunto si modificano e variano questo è un libro che è stato estremamente valutato ed è risultato molto interessante soprattutto nel campo della pittura molti pittori lo hanno letto con grande attenzione e molti di questi pittori ne hanno anche tratto ispirazione guardavo oggi la stampa riportava di una mostra che sarà fatta a Basilea nel 2022 dettuta dedicata a Mondrien e Mondrien è stato un attento lettore di questo libro oltre che un teosofo piuttosto famoso e stasera ci interessa questo per capire come il fatto di riuscire ad andare oltre a una percezione diciamo meramente legata ai sensi e il fatto di mettere in gioco che l'essere umano non ha solo una dimensione fisica ma anche la dimensione eterica ha anche una dimensione astrale e anche una dimensione mentale ecco tutto questo è servito a molti artisti per trarre ispirazione diciamo per la loro arte che non si è più limitata quindi via via a descrivere le cose così come venivano percepite dai sensi ma anche diciamo un'arte che è andata oltre la forma e che quindi è arrivata anche a livello diciamo di arte astratta direttamente collegata con i simboli e in qualche caso pensiamo ad un altro artista famoso che è stato fortemente influenzato dalla teosofia penso a Kandinsky e naturalmente correlata questa arte anche con la dimensione con la dimensione degli archetipi quando noi pensiamo alla mente possiamo pensare a una mente concreta però possiamo pensare anche a una mente astratta a una mente anche che è in grado naturalmente di relazionarsi con gli archetipi quindi quando noi parliamo dei poteri della mente dovremmo farci subito due domande questi poteri della mente sono i poteri legati al piccolo io della personalità per cui questi poteri sono di fatto delle manipolazioni di se stessi e degli altri oppure questi poteri queste potenzialità dell'essere umano hanno a che fare con una dimensione correlata ai simboli correlata agli archetipi e quindi correlata ad una visione del mondo che si possa aprire ad una dimensione spirituale e nel momento in cui si apre ad una dimensione spirituale si apre anche ad una dimensione che ha a che fare con l'intuizione chiaramente almeno dal punto di vista teosofico quando si parla dei poteri latenti nell'essere umano e quindi questi poteri della mente sono esattamente questi poteri spirituali perché converrete con me che una visione spirituale della vita porta a vedere la realtà in un modo completamente diverso non fosse altro perché il primo elemento diventa quello della sospensione del giudizio prendendo coscienza l'essere umano della propria ignoranza l'essere umano non ha più l'esigenza di dare la colpa agli altri non ha nemmeno l'esigenza di trovare i buoni e di trovare i cattivi si limita ad osservare e nel momento in cui osserva senza giudicare forse ha la possibilità di capire di comprendere molto molto di più di quanto non faccia in via in via ordinaria c'è un aspetto della vita che io credo meriti di essere sottolineato dovremmo domandarci noi tendiamo sempre a costruire delle mappe e naturalmente non possiamo dire che le mappe non abbiano una loro utilità le mappe sono importanti quindi la mente concreta che costruisce mappe ha le sue buone ragioni e noi tutti è una cosa buona possiamo utilizzare molto bene queste mappe questa mente concreta nel momento in cui dobbiamo metterci in viaggio è opportuno avere tutta una serie di informazioni la distanza i percorsi gli orari dei treni gli orari degli aerei è molto importante utilizzare le mappe ma dovremmo domandarci però se la mappa è la realtà quindi in realtà dovremmo avere questa forza questa volontà di andare oltre le mappe e di confrontarci naturalmente con quella che è la realtà noi oggi siamo diventati bravissimi come esseri umani a vivere tra le rappresentazioni uno va a vedere uno spettacolo che questo possa essere diciamo culturalmente di alto livello oppure anche come dire uno spettacolo sportivo piuttosto che uno spettacolo rock e che cosa vediamo vediamo che la gran parte delle persone una buonissima parte delle persone vive questo momento come rappresentazione il telefonino è sostanzialmente l'elemento fondante di tutto questo perché attraverso le immagini attraverso la registrazione attraverso la socializzazione noi sostanzialmente non viviamo la realtà ma viviamo la rappresentazione della realtà è molto importante molto simpatico e anche che ovviamente dà in dubbi vantaggi non vivere la realtà ma vivere la rappresentazione della realtà però io credo e lo dico in modo tranchant che fin tanto che l'uomo vivrà di rappresentazioni continuerà ad essere un soggetto pensato fortemente pensato se vuole diventare un soggetto pensante dovrà sicuramente andare oltre le rappresentazioni perché vedete il pensiero ha un enorme potere associativo e noi soltanto attraverso l'osservazione abbiamo la possibilità di coglierlo noi ci fermiamo davanti a una vetrina vediamo uno stupendo gioiello e abbiamo due possibilità o guardiamo il gioiello e lo apprezziamo esteticamente lo cogliamo in tutta la sua bellezza e questo processo può durare qualche secondo al massimo qualche minuto e poi si esaurisce diciamo in questo fatto estetico ma molte volte noi guardiamo il gioiello cominciamo a desiderare di possedere quel gioiello e mettiamo in moto tutta una serie di meccanismi che ci portano come dire al possesso di ciò che vediamo al possesso di ciò che vogliamo nel momento ovviamente in cui questo possesso si è perfezionato il processo non ha fine ma naturalmente troveremo un gioiello più bello di quello che abbiamo visto in quell'occasione e il meccanismo si comincerà a mettere in moto un'altra volta nel uno dei film del neorealismo ricordo aveva questa scena in cui mi pare che gli attori fossero Manfredi e Gasman che erano alle prese naturalmente con i primi effetti del consumismo e quindi Manfredi continuava ad acquistare dei televisori e nel momento in cui acquistava il televisore usciva ovviamente un televisore più bello più performante e così via e lui naturalmente cominciava a inseguire ancora il sogno del nuovo televisore siamo come dei bambini che giocano come dire con dei giocattoli e naturalmente se non arriviamo a interrompere questo meccanismo le contaminazioni emotive e il pensiero associativo ci come dire naturalmente ci procurerà dei danni e soprattutto ci impedirà una visione del mondo più ampia più totalizzante capace di mettere insieme gli aspetti materiali con gli aspetti spirituali senza dividerli in modo manicheo secondo un principio di unità della vita e secondo anche un'azione che possa essere di amorevole gentilezza come dire nei confronti di tutti gli esseri ricordo l'affermazione del Dalai Lama quando disse la mia religione la religione della gentilezza mi sembra come dire un'affermazione assolutamente assolutamente importante dunque abbiamo visto pure attraverso brevi e sintetiche considerazioni quanto quanto grandi siano le potenzialità dell'essere umano potenzialità come capacità di collegamento tra la realtà concreta e la realtà astratta capacità di condivisione e divisione unitaria della dimensione spirituale e della dimensione materiale non vista appunto in un modo manicheo come due realtà ontologicamente diverse e separate e inconciliabili tra di loro ma nella consapevolezza che la vita è un unicum che la vita è una totalità e che naturalmente ad ogni dimensione della materia è comunque presente un principio spirituale questo è un aspetto molto importante perché ci apre una considerazione diversa anche nei confronti degli altri regni non ci meravigliamo più se poi andiamo a leggere qualche libro che ci parla della sensibilità delle piante né ci meravigliamo più voglio dire della giusta attenzione che noi dobbiamo dare a tutto il regno animale noi vediamo che molte delle difficoltà delle problematiche che l'essere umano ha oggi derivano proprio dalla disarmonizzazione diciamo della sua vita della dimensione quindi di un'umanità che non è rispettosa del mondo dei minerali che non è rispettosa del mondo dei vegetali che non è rispettosa del mondo degli animali e quindi vegetali minerali animali regni ultrasensibili tutto questo è una realtà unica e quindi chiaramente questa realtà unica è quella a cui noi dovremmo ambire perché se non ci relazioniamo con una realtà così vasta e così ampia il nostro vedere il nostro sentire sarà sempre dominato dal pensiero duale quindi saremo bravissimi a fare calcoli saremo tutti sul lato sinistro del cervello e metteremo in esilio le potenzialità meravigliose naturalmente invece la nostra il nostro il nostro essere umano ha a disposizione attraverso la possibilità di cogliere la realtà in un modo più vasto in un modo più complesso in un modo più armonico e questo ci porterebbe ad usare un termine che io uso molto valentieri perché credo non debba essere precluso dalla volontà dell'essere umano che si chiama felicità felicità intesa come serenità interiore felicità intesa come armonia nel rapporto con le persone felicità intesa nel fatto di essere capaci di costruire un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo ricevuto e quindi io mi auguro che tutti noi abbiamo questa ambizione che è un'ambizione come dire di tipo umile cioè che è quella di ridimensionare la nostra visione del mondo le nostre chiavi di lettura del mondo attraverso una presa di coscienza che sia una presa di coscienza che ci faccia capire le potenzialità spirituali dell'essere umano ma anche la meraviglia l'incanto del mondo in cui noi viviamo e che molte volte manifesta aspetti negativi che sono direttamente correlati a quelli che sono i comportamenti diciamo dell'umanità e questi comportamenti non li dobbiamo vedere soltanto come delle cose che riguardano gli altri cioè sono gli altri che inquinano sono gli altri che disarmonizzano sono gli altri che trattano male gli animali sono gli altri che distruggono i vegetali e così via naturalmente non dobbiamo essere delle persone miopi al vedere l'evoluzione del mondo l'evoluzione delle cose ma dovremmo essere degli esseri responsabili e quindi farci questa domanda che cosa posso fare io per migliorare naturalmente la mia vita ma che cosa posso fare io per migliorare anche la vita degli altri che cosa posso fare io per migliorare diciamo così lo stato della natura cosa posso fare io per rinnovare il patto con la terra perché un uomo un essere umano che non rispetti il patto con la terra non andrà sicuramente lontano una volta noi pensavamo che le risorse del nostro pianeta fossero delle risorse infinite non è così sono delle risorse finite e quindi se noi continuiamo a vessare la natura a impoverirla a come dire ad inquinarla e così via non andremo molto lontano dunque vedete c'è anche un altro aspetto importante molte volte si dice che le persone che si occupano di cose spirituali che agognano ad una visione del mondo di tipo diciamo filosofico o spirituale ecco si pensa che siano delle persone fuori dalla realtà io al contrario un'opinione di questo tipo che la mia sensazione è che le persone fuori dalla realtà siano proprio quelle che sono molto immerse in queste cose che disdegnano il pensiero filosofico o il pensiero spirituale perché in realtà come dire una riflessione di tipo spirituale una riflessione di tipo filosofico ci porta dritti a considerare l'esigenza la necessità per tutti noi di come dire di rispettare la vita di rispettare gli altri di rispettare noi stessi e quindi c'è un ultimo elemento che io credo possiamo prendere in considerazione dobbiamo rompere quel circuito emotivo basato sull'identificazione con il piccolo io e con le nostre paure e dobbiamo aprirci ad una dimensione di più autentica diciamo spiritualità per fare questo credo che il perdono sia un elemento molto importante naturalmente perdonare non significa soltanto perdonare gli altri ma perdonare significa anche perdonare noi stessi nella prima delle paramita della tradizione buddista ci sono come dire naturalmente le paramita sono degli stati di coscienza e nella prima nella prima di questi di questi stati di coscienza si fa riferimento ad un aspetto naturalmente legato all'amorevolezza della visione del mondo ma si fa anche riferimento a un'operazione che definirei alchemica che è quella di donare alla vita tutto noi stessi con il bagaglio delle nostre esperienze buone o cattive che siano state e attraverso questa diciamo io mi sono sempre immaginato lo sgombero di un capannone industriale in cui molti muletti entrano dentro prendono tante cose naturalmente svuotano tutto questo abbiamo bisogno di questo processo di svuotamento e il perdono naturalmente ci aiuta molto a liberarci perché siamo esseri umani la nostra è una condizione di precarietà lo sappiamo benissimo quindi quanti errori ciascuno di noi ha fatto nella vita e quanti errori ciascuno di noi fa probabilmente ogni giorno e naturalmente dobbiamo essere capaci di andare oltre a questo condizionamento e quindi naturalmente il perdono non è soltanto una cosa che riguarda gli altri ma il perdono è anche una cosa che riguarda noi stessi l'essere umano ha grandi potenzialità ha grandi possibilità non c'è non c'è ombra di dubbio e tutto questo non è legato agli aspetti spettacolari dei poteri della mente voglio dire ma il vero potere che la mente può avere di condizionamento positivo di noi stessi e degli altri questa è una dimensione che non è preclusa all'essere umano e quindi è proprio vero che l'essere umano nella sua vita ha grandi possibilità grandi possibilità di comprensione ha grandi possibilità di visione e l'augurio che faccio a me stesso e che naturalmente faccio anche a tutti voi è che tutto questo possa avvenire e l'augurio che faccio non è che questo possa avvenire domani voglio dire ma dovremmo considerare che noi abbiamo a disposizione questo meraviglioso momento presente in cui tutto accade perché se ci sono delle porte verso l'eterno queste porte non sono sicuramente nel passato e non sono nemmeno nel futuro penso che le porte non possono che essere esattamente nel presente quindi è qui ed ora che dobbiamo cogliere le nostre possibilità vorrei concludere leggendo un breve passo di Giddu Krishnamurti di cui parleremo il prossimo mese nell'occasione della serata successiva e questo passo è dedicato alla meditazione e anche ad altro e lo condivido con voi in conclusione diciamo di questa di questa serata chiaramente prima di leggerlo rispondo alla domanda il perdono si può confondere con l'indifferenza direi proprio di no non si può confondere con l'indifferenza vedete l'indifferenza è una sorta di di atarassia quindi è uno stato come dire ipnotico della della coscienza ed è un modo che naturalmente possiamo studiarne le cause a volte le cause sono proprio legate alle paure uno si fa una scorza proprio per non essere preda delle emozioni della negatività e così via ma l'indifferenza è la grande nemica di questo momento storico essere indifferenti è il contrario di perdonare cioè perdonare significa guardare in faccia la realtà guardare in faccia l'altro e innescare un cortocircuito emotivo che che produco uno svuotamento della negatività nella relazione con noi stessi diciamo e con gli altri l'indifferenza invece è una suprema forma di egoismo in cui praticamente ci viene in mente che abbassando totalmente il nostro livello emotivo e mentale possiamo in qualche modo non soffrire ma naturalmente l'indifferenza è quella che fa nascere tante situazioni mostruose nella vita che vediamo attorno a noi e che ci passano tutti in fondo siamo un po' indifferenti perché se prendessimo coscienza veramente di quelli che sono i mille problemi che quest'umanità ha dovremmo muovere diciamo sia la nostra dimensione del perdono ma dovremmo muovere anche la nostra dimensione della solidarietà e del del servizio praticamente e del servizio che anche questo diciamo è un aspetto di non poca importanza la dimensione del servizio quell'amorevole gentilezza di cui abbiamo citato che abbiamo citato in bocca al Dalai Lama al Dalai Lama questa sera allora non ci resta che leggere questo passaggio di Giddu Krishnamurti dice Giddu Krishnamurti la meditazione non ha principio né fine non c'è in essa riuscita né fallimento non c'è raccolto né rinuncia è un movimento che non ha finalità perciò è al di là al di sopra del tempo e dello spazio farne esperienza vuol dire negarla ecco questo è un passaggio molto importante non avere finalità mercantili di acquisto di possesso di dimensione della vera farne esperienza stiamo parlando della meditazione vuol dire negarla perché chi fa esperienza è vincolato al tempo e allo spazio la memoria e al riconoscimento la base della vera meditazione è quella consapevolezza passiva che c'è nella totale libertà dall'autorità e dall'ambizione dall'invidia e dalla paura la meditazione non ha un significato non ha alcun valore senza questa libertà senza l'autoconoscenza non c'è autoconoscenza fino a quando c'è scelta la scelta implica un conflitto che impedisce la comprensione di ciò che è perdersi in fantasticherie in sogni romantici non è meditazione il cervello deve spogliarsi di ogni mito illusione e sicurezza e affrontare la realtà della loro falsità e questo era un pensiero di Giddu Krishnamurti con cui sulle cui riflessioni torneremo diciamo la prossima volta auguro a tutti una buona serata e una buona continuazione della propria opera e della propria ricerca spirituale siamo come il bagatto dei tarocchi nel nostro tavolo abbiamo tutti gli elementi dell'opera ed è a noi tentare di metterli insieme nel segno mi auguro del bello del buono e anche del vero e anche del